cari ragazzi e ragazze rieccomi in questo nuovo video un video particolare nasce la pagina twitter anche del nostro canale quindi appunto è andata adesso ad agosto praticamente 2018 ho messo la foto di copertina molto particolare soprattutto per per noi questo è un grande ricordo la foto con una yolanda switz al suo evento alla monadori store che fece a milano e niente per cui se volete seguirci anche da qui pubblicheremo anche appunto i video che faremo anche qua e poi un'altra cosa molto importante che rd appunto siamo già iscritti a pagine lol o blindwax o comunque dove vendiamo le nostre lol eccetera ora vorremmo approfondire un attimino questo rapporto con voi appunto per renderlo più unico che mai cercando appunto di unire anche questa cosa ovvero è vero che la maggior parte di voi minorenne ma voi basta che sotto nei commenti quando uscirà il video ovviamente prima dovete dirmi sotto questo video se vi sta bene questa cosa solo dopo pubblicheremo un video delle vendite se vi sta bene appunto che noi possiamo anche vendere il materiale che noi abbiamo qua quindi che siano lol o che siano blindwax o altre cose anche a voi ovviamente dovete avere il consenso di i genitori perché appunto poi dovrete darci un indirizzo di spedizione e appunto noi vedremo i dati poi della carta di chiara praticamente dove voi effettuate il pagamento e poi noi appunto vi spediamo i pacchi ovviamente potete scegliere anche più di un prodotto se volete e niente quindi spero che voi commentate sotto o meglio lasciate like al video se volete questa cosa quindi delle vendite fatemelo capire nel like o comunque commentate anche in modo che noi capiamo e se questo video raggiunge almeno 30 like appunto possiamo partire con le vendite se non raggiungerai 30 like ragazzi non ci saranno le vendite quindi mi raccomando cerchiamo di raggiungere questo piccolo obiettivo e quindi mi raccomando di seguirci su twitter anche per chi ce l'ha ovviamente credo che i video poi li collegherò automaticamente perché credo che da youtube sia possibile comunque al dire di questo soprattutto mi importa sia di questo ma anche soprattutto delle vendite per approfondire il nostro rapporto con voi ovviamente poi per quanto riguarda le vendite se sarà così ci contatterete poi o su instagram o su facebook o appunto su twitter bene ragazzi spero che vi sia piaciuta questa notizia e noi ci vediamo al prossimo video ciao